Con Hiroki un buon rapporto, mio grande amico, poi otto anni, non so, otto, nove anni, gioca insieme con il nazionale, quindi, poi abbiamo parlato, Hiroki mi ha detto, Marseille, come si dice Marseille, è proprio francese? Marseille, come grande squadra, poi ambiente di squadra molto bene, poi positivo, mi ha detto tutto positivo, quindi la vita anche, poi si mangia bene, poi dai, lui ha detto molto positivo, poi sono contento di essere qua con Hiroki, posso, possiamo dare tutto nella squadra per contribuire. Grazie.